È la sconfitta più bella della mia vita, questa sconfitta per 1-0, però penso che questa squadra meritava di pareggiare 0-0 perché ha fatto una gara assolutamente straordinaria, una squadra dove tutto hanno lasciato il sangue, gli altri parlavano di lasciare la pelle, i nostri hanno lasciato il sangue, è una vittoria di tutti, di quelli che hanno giocato, di quelli che non hanno giocato, dei tifosi che hanno sofferto con noi qua, dei tifosi che hanno sofferto con noi a casa.